Si sta tenendo a Roccella, prime date 27 e 29 dicembre, le prossime l'1, 2 e il 3 di gennaio, la quinta edizione invernale del Festival Internazionale del Jazz Rumori Mediterranei, realizzato dal Comune di Roccella Ioni che ha diretto da Vincenzo Stajano. Quello in programma non è un evento di solo jazz, poiché, visto il successo dell'edizione l'anno scorso, si conta anche su altre proposte, non pretamente jazzistiche, come suggerito dal titolo Pop and Jazzy Christmas. Ieri all'Auditorium Comunale ospite Sergio Caputo, con un concerto all'insegna del pop jazz e della canzone italiana da autore. Il cantante romano, che di recente è vissuto per circa 12 anni negli Stati Uniti, dopo ha collaborato con i grandi al jazz mondiale, ha presentato un suo progetto, che ha come tema predominante il quotidiano, l'amore e le nevrosi metropolitane. Ed ora è attesa, per il primo di gennaio, sempre all'Auditorium, ci sarà il gran concerto di Capodanno della Francesco Caligiuri Orchestra. Sarà un evento all'insegna della festa, con relativo brindisi augurale, che vedrà protagonista una formazione inedita, allestita appositamente per l'evento e diretta da Francesco Caligiuri, che si sta confermando uno dei più validi giovani talenti del jazz italiano. L'ensemble, guidato dalla giovane sassofonista, proporà un repertorio di brani noti della tradizione jazzistica e composizioni originali ricche di contaminazioni culturali del bacino del Mediterraneo. Grazie. 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 Grazie.